Buon salve amici cari pixelini e benvenuti bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Ghost Mystery, ricompense per tutti, 200 di energia grazie, non so esattamente il motivo, tra l'altro scusate se sto un po' ritardando con i video, ho fatto il vaccino settimana scorsa, mi ha preso meglio il telefono, è vero, ora ho il 5G e tutte le stronzate varie, mi raccomando ragazzi vaccinatevi appena avete la possibilità, però ovviamente ho avuto una giornata un pochettino di febbre, quindi ho un pochettino messo in pausa tutto quanto, ma adesso che sono finalmente safe from quella cosa che non pronuncio perché sennò YouTube mi diciamo blocca la monetizzazione, quindi quella roba lì, oddio ho anche detto vaccino in effetti nei primi secondi del video, vabbè addio monetizzazione ragazzi, povero me, comunque, oddio in realtà mi mancano ancora tipo un 13 giorni prima di poter essere, avere tutta la copertura massima eccetera, ma ragazzi dobbiamo consegnare il gatto Wampus al nostro amico Kettleborn, ah non è neanche in gabbia, cioè scusate ragazzi noi abbiamo catturato tra virgolette, un gatto Wampus che ha attaccato due persone, confondendole eccetera, e lo teniamo così, senza neanche un guinzaglio nulla, così, ci accompagna lui, beato, questi giochi, mamma mia, salve, abbiamo un gattino qua, professor Kettleborn, Hagrid, siamo qui per consegnarvi il gatto Wampus, credo che sia lui che consegna a noi, cioè è sopra di noi, è sopraelevato, ci fa il, vabbè, si chiama Tim, sì Liz, si chiama Tim, un nome favoloso per un animale fantastico, grazie per aver portato Tim alla sua nuova casa, che bestiolina simpatica, di solito, di sicuro si troverà a suo agio qui, non siete preoccupati all'idea di tenere una creatura pericolosa sui terreni di Hogwarts, e io non sono preoccupato di portarlo qui senza neanche metterlo in gabbia, badiamo già molte creature pericolose qui, signor Balboa, come quelle nella riserva delle creature magiche, se ne so qualcosa, non so, ma temo che sia comunque pericoloso, soprattutto se prendiamo in considerazione che il gatto Wampus usa poteri da legilimens, ecco, è che, vabbè, ma tu sei un legilimens e nessuno ha paura di te, Rocky, sì, ho capito, ma io so, ho un'istruzione, so che non devo farlo, il gatto ha un istinto un po' più primordiale, capisco la tua preoccupazione, perciò lascia che io agrido e ti rassicuriamo non terremo un gabbia e non lo faremo mai uscire, eh, penso che mi sarebbe di grande aiuto ascoltare le vostre idee, parliamo? sì, proprio, cioè io chiedo di preoccupazione quando io, il primo sono io a lasciare un gatto tipo lì così, un gatto con la bestia enorme, abnorme, 8 orette, lui fa rrrr, le tue preoccupazioni sono più che valide e mi assicurerò di alleviarle con cura, il gatto Wampus ha già attaccato una studentessa di Hogwarts, potrebbe rifarlo, beh, finché riattacca qualcun altro che io so, va bene, abbiamo cibo per gatti Wampus, dove qualcun altro intendo Madame Umbridge, oppure Merulina, chissà se il professor Cattleburn mi lascerebbe affrontare un gatto Wampus, ma tu non vorresti coccolarlo piuttosto che affrontarlo? te lo assicuro, il gatto Wampus non farà male a nessuno finché ci sono io qui, sì, penso che Tim non farebbe male nemmeno un Gumbl Bumbl, ora, perché? Cosa è cambiato? Cosa gli hai fatto Liz? Eh? Cosa gli hai fatto? Dicevi tanto di essere brava, ma secondo me è... Il ministero reputa il gatto Wampus una bestia di grado XXXXX Eh, non ha torto, eh? Forse ci serve un cesto più grande per il gatto Wampus, perché vuoi lui metterlo nel cesto? Ma... Vieni qui, che ti... Penso io... Anche tu sei un legilimens, Rocky, ma non penso che tu sia pericoloso Sì, ma io non so, non puoi... Stai paragonando una bestia a me, eh? Cioè, vabbè... Ok... Non devi giudicare una creatura dal suo aspetto, Rocky Eh... Nì, però... Io e il professor Kettleborn ci occupiamo di tante creature pericolose Sì Le tue preoccupazioni sono più che valide E mi assicurerò di alleviarle con cura Guardalo, è un gatto domestico un po' troppo cresciuto Sì Il gatto Wampus ha già attaccato una... Questo l'abbiamo già letto Questo l'abbiamo già letto Vediamo un pochettino, mi sa che abbiamo già letto tutto quanto Ah, sì, direi di sì E quindi, insomma, il resto Lo farò dopo Cioè, lo farò off camera Ed eccoci qui con tutte e cinque le stelline Pronte a raccogliere tutto quanto e andare avanti Io e Hagrid abbiamo grande esperienza con le creature pericolose Non accraverà nulla di grave E poi il gatto Wampus ha attaccato perché aveva paura Voleva proteggersi Mmm... Ok Ti senti meglio ora che abbiamo parlato delle tue preoccupazioni? Eh... Vabbè, sì, io mi sento meglio Sono gentile e al massimo è colpa loro Fatemi sapere cosa avete scelto voi Sì, mi sento meglio dopo aver parlato con voi Grazie per avermi ascoltato Ma certamente In quanto professore È mio compito assicurarmi che tutti gli studenti siano sicuro E, soprattutto, ascoltarli e guidarli Sbaglio? Tipo l'anno scorso vi hai fatto scappare una chimera? Giusto per dire E, guarda un po' Il gatto Wampus si è ciambellato per fare un pisolino Come fosse un gattino Stavo per leggere Per dire E guarda un po', il gatto Wampus è scomparso E invece no Oh... Carino Che tenero Non lo toccare ti ammazza Ah, il gatto Wampus sembra mansueto mentre dorme Sì Non sai quante volte le creature E anche le persone Ti fanno ricredere su quello che pensi di loro Beh, ecco qui un altro lieto fine per l'ennesimo mistero di Hogwarts Mmm, si spera Quindi ora è il momento di passare al prossimo Che cosa, Rocky? È il prossimo anche a Enrico del Ministero Ne abbiamo infinità C'è una persona con la quale vorrei parlare Preferirei parlare di creature Ma non mi dispiace l'idea di discutere le meccaniche di volo Di un gumblblomble Un glumblblomble Un glumblamble Quelcoso lì In un certo senso La persona con cui devo parlare È imprevedibile Quando una creatura selvatica Con chi dobbiamo parlare ragazzi? Mmm, qualcuno di imprevedibile Merula? Potremmo persino dire che è l'equivalente del gatto Wampus per le streghe Merula? Credo che tu stia parlando di Merula Oh sì È proprio la persona che devo incontrare Si è comportata in modo strano Quando smerda È finita in infermeria Voglio sapere il motivo E ragazzi Andiamo assolutamente a scoprire Ovviamente dopo aver sprecato 55 gemmozze Vediamoci una sola grande Ma fai in fretta Prima mi fai spendere delle gemme Poi esigi anche che faccio in fretta Cioè Io non lo so veramente ragazzi Ma qui Merula ci cova Bella questa Ma ragazzi Eccoci qua Non di la pizza che sono qui Volevi tale di lavare le padele e i tegami Smettila di infrangere le regole Ciao Rocky Mi sono presa una pausa dal San Mungo Ah giusto perché lei Era San Mungo Giusto giusto Andate a lavorare lì Non ho informazioni nuove No lei Beatrice Scusate Scusate Ho confuso le persone Comunque non ho informazioni nuove Ogni tanto un po' Cioè Tutte le voci che ho dato ai personaggi Ogni tanto Una mi può scappare Ho letto male il nome In realtà pensavo fosse Badia Grazie di essere venuta Merula Merdula Non ringraziarmi ancora Non so che cosa vuoi da me Ma hai detto che era importante Perciò sono qui È importante Volevo parlare di quello che è successo in infermeria Oh che palle l'inglese Non hanno ancora tradotto le cose in italiano Intendi con Ismelda Shaken up Non so cosa vuol dire Lei era un po' scossa presumo Adesso sta bene E questo è quello che importa Qualcosa del genere Sì Ah ora Passiamo di nuovo all'italiano Sì Ma ha rischiato di farsi male Perché un gatto wampus Un animale pericoloso e selvatico È stato liberato a Hogsmeade E il gatto wampus Non è una specie nativa della Scozia O dei territori intorno È strano Non trovi Ma direi che abbiamo visto cose Ben più strane qui a scuola In passato Eh Hanno dato a Merdula Lo sguardo colpevole Guardatelo Proprio colpevolissimo Può essere Ma sai cos'altro Ho trovato strano? Che eri estremamente preoccupata Per Ismerda Ma non ci hai mai detto Dove ti trovavi Quando Ismelda È stata attaccata A essere sincero Ti sei comportata In modo sospetto Mentre eri in infermeria Si è preoccupata Non mi ricordo ragazzi In modo sospetto E come mai? È tanto strano Per il che mi preoccupi Per un'amica? No Non intendevo questo So che ti preoccupi Di tuoi amici Alcune volte Grazie Balboa Come sei Gentile Ma stavolta C'era qualcosa di diverso Mi è sembrato che Ti sentissi in colpa Per quello che è successo E smerda E continuo a chiedermi Come mai? Quindi è tutta colpa mia Giusto? È successa una cosa orribile Perciò deve essere colpa Di Merula Snide Vero? Incredibile No Merula Tu non hai colpe Ma stanno succedendo tante cose E non ci siamo mai confrontati A riguardo Non ho colpe A me sembra il contrario Da come ti comporti Mi sembra che tu sia confusa Dalla fine dello scorso anno Scolastico Che sfacciataggine Dai Dimmi perché sarei confusa Va bene Te lo dirò E te lo dirò con 8 orette Un'oretta Ragazzi Un'oretta di energia Fantastico Cavolo Tutti sanno degli sbalzi d'umore Siamo Tutti hanno Siamo adolescenti No? Nessuno ha avuto Tue notizie Tua notizie Durante l'estate Dopo il sesto anno E vabbè Sì E hai imparato A lanciare magie Senza bacchetta Durante le vacanze estive Soprattutto tu non puoi usare Le Non puoi usare La magia Fuori di Hogwarts Quindi Come hai fatto? Questo è il più grande Errore che hanno fatto i sviluppatori Ragazzi Al di fuori di Hogwarts I maghi minorenni Non possono usare la magia Che sia con la bacchetta O senza la bacchetta Non conta Perché Esempio Harry Esegue roba Magica Senza la bacchetta E lo beccano Cioè in realtà è stato l'elfo domestico La prima volta E la seconda volta Ho usato la bacchetta Però comunque Hanno beccato Harry Anche quando non era lei Lui Ragazzi Non si può fare Punto Ok? Punto Pensavo che avresti apprezzato Il contegno Che ho dimostrato Quest'anno Sei stata troppo calma Quando siamo tornati a scuola Quest'anno Mi è sembrato Che migliorassi Sai Penso che la persona Più sospetta Tra noi due Sia tu No io non me la faccio Con R Tranquilla Non riesco a capire Cosa pensi E mi chiedo Se ci sia qualcosa Che non vuoi dirmi Non ti basta Avere catturato Il gatto Wampus Non sei felice Così Dipende C'è la parola O te Gatto Wampus Ogni tanto Sembri più gentile E poi in alcuni momenti Sei la vecchia Merula Cattiva Alcune persone Cambiano In meglio Balboa Mmm Non avrei mai Pensato che mi avresti Insegnato la mangenza Bacchetta A inizio anno Ah si Giusto Ce l'aveva insegnata Per così dire Cavolo Tutti a noi Ok questo L'abbiamo già letto Nessuno ha avuto Due notizie Durante l'estate Ok ragazzi Abbiamo letto tutto E quindi eccoci qua Con tutte e cinque Le stelline Mamma mamma Pronti ad andare avanti Raccogliamo tutto quanto E vediamo un pochettino Che altro succede Te l'ho detto Già quando siamo Tornati a scuola Balboa Sono cambiata Dall'anno scorso Sarai anche cambiata Ma devi ammettere Che è da tutto l'anno Che il tuo comportamento È incostante Hai risposto male A me e Lizio Senza motivo Ci sono dei momenti In cui sei gentile E poi torni a essere crudele Come ai primi tempi Ragazzi Che ci siano due merule Il metamorfo magus Ragazzi ci sono due merule Punto Ascolta Balboa Ecco Scusami per aver risposto male A te Liz E secondo me Lei lo sa Ed è ricattata Tipo E Smelda è la persona Più vicina a me Potrei quasi considerarla Una buona amica Ero Preoccupata per lei Vedi Ora ti stai scusando E questo non è da te Ti ho tirato fuori Nell'ultima sala maledetta Avrei potuto lasciarti lì Ma non l'ho fatto Ragazzi abbiamo una macchia Nella Nella Camicia Vedete Lì a destra Manica a destra Beh Hai ragione Ma Avresti potuto avere Dei secondi fini Questi interrogatori Questi sospetti Ci fanno solo stare peggio E si ripercuotono Anche sui nostri amici Credimi Ho pensato tanto Ai nostri amici ultimamente Ed è per questo Che sono preoccupato Perciò Quando ti hai vista Con Ismelda Mi hai visto Mentre ero preoccupata Per un'amica Che era in pericolo E che era stata ferita Hai visto che Non sono insensibile Come pensavi E io che speravo Che dopo tutto Quello che avevamo passato Dopo Rowan Speravo che tu Mi capissi meglio Mmm Non sono più La bambina Che ero sei anni fa Belboa Lo so Ma Quindi Se sei davvero mio amico Mi lascerei in pace Detesto ammetterlo Ma pensavo Che fossimo diventati amici Mmm Forse non voglio essere La vecchia Merula Ma nemmeno la nuova Merula Forse Non sto ancora Forse sto ancora Cercando di capire Chi sono Ha senso Se ripenso A quel che ho visto E cosa avresti visto Devi decidere Se vuoi dirmelo O credere Alla tua amica E lasciare perdere Tutta questa storia Per ora Allora Cosa vuoi fare Ragazzi Ragazzi Non so assolutamente Cosa fare Qui Qui c'è un dubbio Forte Qui c'è un dubbio Veramente forte Ragazzi Qui il dubbio È fortissimo Perché Questo può cambiare tutto Perché Se chiediamo Spiegazioni Su Noturn Alley Lei Beh O tiriamo fuori Le nostre Le nostre carte Lei sa che noi sappiamo Quindi Cercherà di essere Più Boom Oppure Lasciamo stare E non gli diciamo Nulla E Però non scopriamo Neanche nulla Di nuovo Io ragazzi Per una volta Proverei Cioè io proverei A essere Diretto Le chiediamo Le spiegazioni Chiedendole Le spiegazioni Mettiamo È vero In scoperto Le carte Lei a quel punto Sa Che noi sappiamo E quindi Deve stare Più attenta È più stressata È più Preoccupata E magari Cade più Nel trenello Se invece Stiamo zitti Ok Lei non sa nulla Però Non scopriamo Neanche nulla Di nuovo Né una sua reazione Né altro Magari Non era lei E non tornare Lei E lei non ne sa niente Ragazzi Io sceglierò Quella sinistra Me ne pentirò Probabilmente Sì È da diverso tempo Che volevo chiederti Spiegazioni Su una questione Ma non sapevo Come affrontare L'argomento Sputa Sputarrospo Alla fine Del nostro sesto anno Ho visto una cosa Notturnale E quindi Sai quante cose Succedono Notturnale Chi se ne importa E invece Mi importa Merula Perché ho visto Te e E nessuno Non hai visto nulla Ogni tanto Vado a Notturnale E quindi Non so cosa Pensi di avere visto Ma non hai capito Nulla Sai Sono tua amica E sto dalla tua parte Ti basta sapere questo Mmm Puzza sta cosa Ben Non è un buon momento A dire il vero Hai avuto Un ottimo tempismo Per una volta Copper Ho dato molto A cui pensare A Balboa Non finisce qui Merula Avrò le risposte Che voglio E me le darai tu Fatemi sapere ovviamente Che succede Nell'altro caso Perché sono Ultra curioso Stavolta Forse Chissà Cosa è successo Sei più serio di me Il che È tutto a dire È difficile Chiedimelo di nuovo In un altro momento Ben Va bene Nel frattempo Volevo dirti che Twyky Twycross Ci sta aspettando Il ministero della magia A quanto pare Dobbiamo tornare Da ministero Per un nuovo incarico In un tac E questo mi fa riflettere Quale nuovo mistero Ci attende Eh Lo scopriremo Subitissimo ragazzi Comunque Questa nuova Rivelazione Su Merula Mi fa tipo Cosa Ma proprio Cosa Tipo Stranissimo ragazzi Forse ho sbagliato Essere così diretto Con lei Soprattutto Lei ha negato tutto Non c'ha Risposto nulla Però ora Lei dovrà Essere più attenta Insomma Rocky Fammi sapere Se trovi Charlie Bill vuole pranzare Vuole che pranziamo Tutti insieme Che cosa darei Per tornare a Hogwarts Anche se il ministero Non è male È bello Vederti Rocky Sì Più o meno Ehi vecchietto Bene Ci siete entrambi E siete in orario Salve Signor Twycross Ben mi ha riferito Che voleva vederci Ha per caso Un nuovo incarico Da assegnarci Esatto Ma prima Ci tengo a sottolineare Che sono rimasto Colpito Dai tuoi dragguardi Signor Balboa Ho sentito parlare Del lavoro Che hai fatto Al dipartimento Per la regolamentazione E il controllo Delle creature magiche Non è un ambito Che mi compete Ma signor Dingori Mi ha detto Che non è facile Catturare un gatto Wampus Grazie signor Twycross Ma non ce l'avrei mai fatta Senza l'aiuto dei miei amici Mi sono già congratulato Con il signor Lee Il signor Weasley E la signorina Tatton E è stato concordato Che loro tre Continueranno a lavorare Nel dipartimento Ma tu e signor Copper Siete richiesti altrove Fantastico E dove signor Twycross? Un nuovo dipartimento? Sarà interessante Prima di liberarvi i dettagli Ho una domanda da farvi Di signor Balboa Quale dipartimento Hai preferito Tra applicazioni Della legge Della magia O creature magiche? Allora Tra i due Io ho scelto il primo Cioè nel senso Meglio essere un Auror Che prendere dei gattini E accudirli Ho preferito Applicazioni Della legge Della magia Mi è piaciuto Incontrare il Marocchio Moody lì E scoprire La storia del dipartimento Sì Ok Questo vuol dire Voglio fare l'auror Però Cioè mi fai fare Anche altri mestieri Spero dopo Se ricordo bene Hai gestito La maledizione Delle finestre incantate In modo eccellente Quel dipartimento Era perfetto per te Fatemi sapere Che succede Nell'altro caso O nell'altro caso ancora Spero proprio Che ti piacerà Anche il nuovo reparto A cui sei richiesto Andrà il dipartimento Della catastrofe E degli incidenti magici Charlie mi ha parlato Di questo reparto Ci lavora La squadra cancellazione Della magia accidentale E anche il comitato Di scusi ai babbani E ci sono molte altre sezioni Signor Copper Prima che vi occupiate Il vostro nuovo incarico Mi piacerebbe Spiegarvi brevemente Come funziona Questo dipartimento Questo brevemente Mh 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 Cortesemente Vorrei Vedere Cioè scusate Se mi fai vedere Di qua Non c'è niente E devo tornare Di qua Per vedere Bah Vabbè Il vostro prossimo Dipartimento Si occupa Di risolvere Incidenti E danni Causati Dalla magia Mi chiedo Come sia Il dipartimento Degli incidenti magici Lo scopriremo Era una strega Molto brava Hogwarts Sapete Ho il presentimento che finiremo nel comitato di scuse e babbani, spero di no. Il quartiere generale e obbriviatore si trova nel dipartimento delle catastrofe e degli incidenti magici. Spero che non farà emossolo lavoro d'ufficio, lo spero anch'io. Giornata movimentata, Rocky? Anche per me. È probabile che non dovrei occuparti di finestre maledette nel nuovo reparto. Di cosa ci occuperemo nel dipartimento delle catastrofe e degli incidenti magici? Eh, bella domanda. Hai gestito divinamente la questione del gatto Wampus, Rocky. Amos me ne ha parlato. A signor Twycross piace parlare con una cadenza monotona o la sua voce è così di natura? Ho azzeccato la voce di Twycross allora. Il vostro prossimo dipartimento si occupa di risolvere incidenti e danni causati dalla magia. Mi chiedo come sia il dipartimento... Eh, questo l'abbiamo già letto? Sì, 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 sì. Anche questo l'abbiamo già letto. Mi sa che abbiamo letto tutto quanto. Sì, controlliamo di nuovo questo. Esattamente, abbiamo letto tutto. Quindi ci vediamo frappè. In realtà ci mancava ancora una cosa che ho letto prima, che in pratica cliccando quel divano laggiù in fondo, la dietro che neanche si vede, una delle cose che ha detto tipo, mi sembra la signora Weasley, è stata... No, Ben, scusate. Credo che annulleremo incantesimi su pezzi di arredo, come questo divano. E quindi niente, mancava solo quello. L'obiettivo primario del Dipartimento delle Catastrofi e Incidenti Magici è di risolvere... Non dirmi Catastrofi e Incidenti Magici, ti prego. Catastrofi e Incidenti Magici, lo sappiamo, signor Twycross. Eh, sì. Non essere maleducato, Ben. Non è un problema, signor Balboa. Immagino che il signor Copper sia emozionatissimo all'idea di scoprire il vostro nuovo incarico. Io lo sono di sicuro. Sì, è viva, non vedo l'ora di andar via dal ministero. Allora sarà meglio sbrigarsi. Forza, Ben. È giunto il momento di scoprire il Dipartimento delle Catastrofi e degli Incidenti Magici. Ma tutto questo probabilmente succederà nel prossimo capitolo. Perché nel prossimo video, ragazzi, ci metteremo a fare lezione di Ornitomanzia e il Santuario dei Bolcini. Ah, devo fare anche tutta la preparazione. Mamma mao, che faticaccia. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo video. È di Merula. Siamo usciti allo scoperto. Abbiamo fatto casini. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto. Per oggi è tutto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, toglievi alla campanella e condividete questo video con tutti i vostri fantasci amici. Per oggi è tutto. Che altro dire? Ricordatevi che qua in fondo, ci metto mezz'ora a passare da una parte all'altra, ci sono le energie gratuite degli aeroplanini. E per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il bisgatto. Mamma mia. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati. Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici. Allora, iscriviti al canale del Pixelmatto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta.